Dance like there's no tomorrow Bentornati, buon venerdì, come state? Tutto bene? Ecco qua, microfono a posto, ci siamo ok È venerdì, come dicevamo pochi secondi fa E siamo di nuovo al solito appuntamento con Best X of the Week Cominciamo a vedere i migliori mazzi della settimana Partendo dal formato che più conosciamo qui sul mio canale Ma questa settimana prendiamo la cosa in maniera leggermente diversa Ovvero prendiamo i tre mazzi che sono stati più performanti E poi vi do qualche modo per cercare di andare a batterli Se nel vostro meta è pieno proprio di queste liste Allora, il terzo mazzo che vediamo con più piazzamenti in questa settimana a livello di Modern Il terzo mazzo che ha piazzato più risultati in questa settimana per quello che riguarda il Modern È un grande classico Ormai diciamo che il Modern ci ha abituati a un meta con tanti mazzi In una percentuale molto bassa I classici altro che vedevamo negli scorsi video Ma abbastanza concentrato su quelli che sono i tier più forti del momento E allora andiamo a vedere subito questo che da mesi a questa parte non ce lo scogliamo più Ovvero 4C Iorion Un control midrange deck che fa value incredibile con tutte le carte più forti del formato Infatti è il classico mazzo money pile E cerca di andare a overplayare l'avversario in ogni maniera possibile La mana base è una mana base normale ma costosissima per un 4C Con un paio di Boseiju in doppia copia per andare a dittare tutti quelli che sono permanenti fastidiosi E un Otawara come aggiunta sempre di Neon Kamigawa Per il resto abbiamo una quantità infinita di fetch Ne abbiamo 4, 8, 11, 14 fetch Uno per di ogni shockland che ci serve a giocare Qualche basica Questa lista gioca in particolare due isole Normalmente credo che se ne veda una isola solamente Probabilmente l'ha aggiunto Insomma diciamo che non è niente di particolare E poi tutte le carte più costose o forti del formato perché magari non sono costose Però partiamo subito da Ragavan che è decisamente la carta più costosa Ultimamente in queste liste si vede giocare questa scimmia droppa 1 Il slow power level giustifica la cosa C'è un video uscito questa settimana che vi consiglio di andare a vedere Una serie di 3 sul canale Giacchiera Trimarchi Chiaramente tutti lo conoscete immagino Dove il suo ospite è Piegonti Andrea Piemonti Detto Piegonti su MTGO Che al momento è il trophy leader Ed è un grande esperto di questo mazzo Che spiega la motivazione per cui si gioca Cioè spiega molto molto bene dettagliatamente tutto il mazzo La lista potrebbe non essere esattamente questa Perché varia abbastanza Ci sono dei flex slot tipo la seconda Fiori Gli Adam De Scoli Il numero di counter spell Che possono variare Però siamo qui Diciamo la shell base è questa Di cui poi vi lascerò comunque la lista in descrizione È un grande classico Abbiamo soltanto qualche aggiunta diversa Ad esempio c'è chi ha provato Facendo il risultato in una challenge The Wandering Emperor Come drop aggiuntivo a 4 Che non è affatto male Devo dire l'ho provata anch'io E mi sembra molto forte Tagliando la marcia bianca E quella non mi sembra un'idea fantastica La side si compone bene o male Sempre nella stessa maniera Cercando di andare a recuperare Quelli che sono i brutti matchup Con un'altra copia di Boseju Per i mazzi che ci uccidono Un paio di carte di eti per il cimitero Contro gli scarti In particolare contro Turrach Vail of Summer Sanctify Rembeck Per Greek's Dead Shadow Insomma Archie's Recall Per gli artifact deck che ci sono in giro Niente di particolare Se non le ultime aggiunte di Magos of the Moon Quindi questo spiega la maggior presenza di basi Che è comunque il mazzo gioco Anche 4 Abundant Crow Che gli possono permettere di fixarsi il mana Ma ricordatevi d'ora in poi Di stare molto attenti Anche a come fecciate contro questo mazzo Perché Canister è riuscito a Incastrare in queste build Addirittura un lock effect Sulle terre che sta fuori Boseju Quindi dateci sempre un occhio Ma come possiamo andare a batterlo Ma è abbastanza chiaro Che se noi giochiamo tanti pezzi Di hate per terre Counter incounterabili Vail of Summer Stiamo parlando di un mazzo Che soffre i combo E infatti la prima delle liste Che andiamo a prendere Per andare a hittare Diciamo a Sciarcare i giocatori di questo mazzo È Goblin Cher Belcher Che è un combo Di cui ho parlato nel mio video Dove spiego tutti i combo del formato O do una infarinatura Su tutti i combo del formato Di cui vi lascio il link In descrizione Me lo segno Ok E Come funziona il mazzo Molto semplice Noi facciamo Abbiamo dei modi Di fare fast mana Abbiamo qui 12 rituali In realtà 13 rituali E se aggiungiamo a quelli da 7 Andiamo a 16 rituali Che ci danno del mana rosso L'obiettivo è quello di avere 7 mana Appoggiare Goblin Cher Belcher E attivarlo Che è una carta che dice Rivela tutto il tuo mazzo Finché non rivelio la terra Ma noi spoiler Non giochiamo terre In questa lista Grazie alle Le flip land Che sono uscite In Zendikar L'ultima volta Che siamo andati In Zendikar Non mi ricordo Come si chiama In particolare L'espansione Zendikar Rising Ecco qua Non giocando terre Praticamente Ribalteremo i danni In faccia al nostro avversario Facendogliene Diciamo Una quarantina L'importante è arrivare Ad avere 7 mana Queste liste Una volta giocavano Blood Moon Effect Anche main deck Sono stati spostati Per la presenza di Boseju Eccolo qua Magus of the Moon E la nostra side è composta Da risposte a Scarti O Burn Anche qua In Laylife Cioè tra Layliness of Sanctity E Vale of Sum Anche molto forte Contro control Risposte a Hate Tipo Agospinale Stony Silence E cose così In Force of Vigor Una chiusura alternativa Che è Pyromine Ascension Che magari prima o poi Vi spiegherò Perché è veramente Complessa da fare Soprattutto le prime volte Per capire come fare Le pilette Magus of the Moon Che è il Blood Moon Effect Che abbiamo adesso Solamente di side E un po' di hate Per delle creature Se mai dovessimo incontrare Tipo Humans Che gioca Talia Piuttosto che BG Yagmoth Che è già una cosa Un po' più presente Nel meta E questa è la sezione Dedicata a Iorion Per quello che riguarda Il terzo mazzo Tra quelli che hanno fatto Più risultati Questa settimana Prendendo il secondo Troviamo una new entry Diciamo Nelle nostre Top list Che è R.V. Prowess Non è chiaramente Una new entry E' un mazzo Molto solido Che esiste Da un bel po' di tempo Ma non lo vedevamo Nelle top Dei mazzi più giocati O comunque Con più risultati Da qualche periodo Il mazzo E' un lurus tech Infatti la sua curva E' molto molto bassa Light up the stage Possiamo tranquillamente Andare a metterlo qua E come potete vedere La curva è ridicola Cioè Si ferma a 2 Ma la base Sono le nostre 16 creature a 1 E i nostri 13 drop a 1 Per andare a giocare Tutto il mazzo Mana base Molto snella Stiamo giocando Boros Abbiamo quindi Delle shock Un paio di Sacred Foundry 4 Sunbaked Canyon Per ciclarsi le terre Di troppo Che andiamo a pescare 4 Sparring Vantage Che se cominciano A entrare tappate G1 almeno Diventa strana La situazione Perché Potenzialmente Questo mazzo E' uno dei più aggressivi Del formato Quindi Se andiamo Se andiamo troppo in là Chiaramente Perdiamo molto La nostra Esplosività Perdiamo molto Il fattore sorpresa Si abbiamo Dei late game Buoni Grazie a Lurrus Grazie a DRC Ma non è quello Il centro Della nostra partita Diciamo che siamo Più spostati Entro turno 5 Ecco Mettiamo così Come è composto Il mazzo 16 creature a drop a 1 2 creature di quest'anno Prowess Soscar Mage Monastery Swift Spear Poi chiaramente Abbiamo 4 ragavan Perché è il drop a 1 Più forte E più stupido Che abbiamo nel formato 4 dragon's rage Chenner Direi che La lista è un grande classico Abbiamo tutte le creature Più forti possibili Con le nostre Mini spell Che sono 4 bolle di Mishra Che è da sempre La migliore amica di Lurrus E con Dar si fa Opt Ma meglio 4 perdi Lava Dart Che era un po' Che non si vedeva Ma è un'ottima Spell contro i ragavan avversari Ad esempio 4 perdi Lightning Bolt È la spell più forte di Magic Lo sappiamo Non si può non giocare In questi mazzi 2 perdi Buttagenic Growth Per andare a riempire Quel vuoto che mancava Per rubare Quegli ultimi danni E per salvare i nostri pezzi 3 perdi Light up the stage Che in questo mazzo È difficile castare a 3 Cioè anche volendo È proprio complicato Provare a riuscirci A meno di non tappare 3 E farlo Ma non è quello l'intento Drop alti Del mazzo Sono 4 copie di Mana Morphose Che normalmente Sono una carta Che ci fa Tra virgolette Scombare Cioè ci dà Veramente Dei turni Esplosivissimi E 4 perdi Reckless Impulse Che insieme a Light up the stage Fa un value Diciamo sono le 4 copie aggiuntive Di Light up the stage Ok Esiliamo le prime 2 carte Del mazzo Possiamo giocarle Fino alla fine Del nostro prossimo turno Quindi dovessimo Hittare terra Ma l'abbiamo già fatta Va bene per il prossimo turno Una comunaccia Che si gioca anche in Storm Da Pauper Lista che dopo vedremo Che è veramente 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 Forte Secondo me Come si compone la side Togliamo subito lo slot di Lurus Lasciamolo qui da parte Anche se non ci vuole andare Eccolo lì Quindi una carta Ce la siamo giocata Con il nostro Simpatico Companion Simpatico perché sta cominciando A essere leggermente Troppo presente E fastidioso Ma a parte lui abbiamo Un paio di removal Diciamo per creature molto grosse Tipo Murktide Removal per 8 O creature più piccole In forma di Prismatic ending Un paio di Alpine Moon Per tutto quello che è Tron Piuttosto che Urza Saga Soprattutto E Amulet Può anche ricordarci Che contro Tron Chiamare Blaston Con questa non è affatto male Un paio di Core Firewalker Per il matchup Contro Burn Che non è malissimo Ma con questa migliora Decisamente E soprattutto per il mirror Dato che essendoci Lurrus Non possiamo permetterci Di giocare Bone Crusher Giant Che non fa prevenire i danni Un paio di copie Di Sanctifier And Vec Un po' a sdoppiare Core Firewalker Senza l'effetto Di avere il game life Ma annullando Delirio Anche nostro Ma delirio Degli avversari Principalmente Tre copie Di War and Tear Per Le line of sanctity Calici a uno Che piovessero Insomma Roba e così Questa è una lista Molto molto Easy Secondo me Pronta per l'uso Nel senso che E' veramente Intuitivo Il suo game plan Però molto 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 performante E molto veloce Ve la consiglio anche Per grindare Su MTGO Secondo me E' un'ottima idea E come la battiamo Molto semplice Se Il nostro Oppo Ha le creature Io gliele faccio Sacrificare Tutte Indistitamente E quindi Living End Magari Ecco appunto Intanto Rimetto Tutte le mie Del cimitero Living End E' un'ottima Ottima idea L'unica cosa Che dobbiamo fare E' riuscire A arrivare A turno 3 E poi Girare O una Shardless Agent O un Violent Outburst Diciamo che Contro i mazzi Con le creature Living End Mi è sempre Sembrato Un'ottima Ottima Scelta Ma una base Classica Che soffre Un pochino Blood Ma se siamo Bravi a fecciare La prima Blu E a pescare Otawara Una Sunker Ruins Che c'è O non c'è Dipende un po' Dalle liste Per sospendere Living End Non mi sembra Mai essenziale Averla Onestamente Perché sospendere Una Living End Fa abbastanza Schifo In questo mazzo Però Comunque Si può giocare Come funziona Il mazzo Caschiamo Con gli otto Cascanti Che abbiamo visto Prima Giriamo Living End E rimettiamo Tutte le creature Che abbiamo Al cimitero Direttamente Nel campo Di battaglia Come ce le mandiamo Le nostre creature Al cimitero Hanno tutte A parte Quella che ho appena evidenziato Ciclo Che vuol dire Paga il suo costo di ciclo Scartala Pesca una carta Continuiamo a sostituire Le carte Che abbiamo in mano Andando a cercare I nostri cascanti Facilmente Pescheremo Una Living End Capita sempre così Street Vraith Non ha Diciamo È la nostra È il nostro modo Di cittare Sul mana Perché non paghiamo Mana Per andare A metterla Al cimitero Ma paghiamo Delle vite Che si giocava Prima tanto In Grease The Shadow Ma poi È arrivato In Death In generale Ma poi È arrivato Il simpatico Lorus E quindi È cambiato Tutto E insomma Un po' così Ultime aggiunte Ah giusto Dicevo Griff È l'unica carta Che non ha ciclo Ma dice Esiliate una carta Nera dalla mano E fai evoke Di questa creatura Guardi la mano Dell'oppo E scarti Una carta Quindi Ci serve A proteggere La scombata Il turno Che andremo Con Living End Nel Diciamo Con Shardless Sargent Che è La nostra Cascata Sorcery Quindi noi Faremo Griff Pitchandoci Un Living End Una Street Vraith Un Architect of Wheel O un'altra Griff Guarderemo La mano Del nostro Oppo Se non A counter Faremo Shardless Cascheremo Living End E gli scarteremo Un'altra carta Con Griff Quindi mi raccomando Se ha una creatura E un counter O una creatura E una spell Scartateli prima Alla spell In maniera tale Che la sua creatura Non rientri Ma venga scartata Dal secondo trigger Di Griff Come protezioni Aggiuntive Abbiamo Quattro Force of Negation Una Brazen Borrower Per Calici Teferini E robe così Force of Negation Per gli stessi motivi E ultima Aggiunta Da Kamigawa Neon Dynasty Colossal Sky Tartle Che a parte Il fatto di essere Una tartabuga Volante Che già Mi sembra Un'ottima cosa Per andare A inserirla In qualsiasi mazzo La possa giocare È un 6-5 Volare E gira 2 Quindi per essere Per far sì Che una spell Risolva Su di lei Il controllo Deve pagare Il costo Della spell Più 2 Altrimenti Viene counterata E non ha Ciclo Ma ha channel Che è l'abilità Dell'espansione Ne ha due diversi Il primo dice A costo 3 Pagando 2 E un verde Scartala Fai tornare Una carta A scelta Dal cimitero La tua mano Può essere anche Forte Andare a scartarla Per riprendere Force of Negation E picciarla Su un pezzo Per counterare Ad esempio Un teferino O qualcosa La seconda parte È quella Molto interessante Perché ci aiuta Contro Murktide Meddling Mage Che chiamano Living End Perché dice Scartala Pagando 2 Uno E un blu Rifai tornare Una creatura In mano al proprietario Possiamo farla Anche solo Le nostre creature Non mi sembra Una figata Ma si può fare Dovesse mai servirvi Tipo subborrower Per imbarzare Un calice La side Veramente Simple Si compone Di Tre Perché gli scarti Comunque Non sono bellissimi Da subire Mai Se giochiamo combo Un paio Di Una copia aggiuntiva Di brazen borrower Che è un po' Il catch all Del Del mazzo Che va a aiutare Le foundation breaker E le copie Di force of vigor Di side Che possono variare Nel numero Per andare a colpire Le hit Che ci serve Che è sempre Di solito Rest in peace O calice del nulla O Similare Calice del vuoto Calice of the void Vabbè Abbiamo capito Tre copie di endurance Per i mirror Di mazzi Diciamo Graveyard based Ma non solo E molto forte Anche contro UR E Grixis Dead Shadow Due copie Di mystical dispute Contro control Da aggiungere Alle force of negation Due copie di subtlety Io principalmente Le side o in Contro trono Che non è un matchup Drammatico Ma i carnini Che vanno a prendersi Tormod crypt Sono veramente Veramente Fastidiosi Quindi con questa La prendiamo Ed è forte Chiaramente Anche contro Teferino E questo era il secondo Il primo modo Per battere Rv prowess Il secondo modo Per battere Rv prowess Qual è Che rivediamo Un attimo Con la lista Secondo me Questa settimana C'è anche questo Allora Che mazzo è Stiamo parlando Di Gw Elliot Che io vi sconsiglio Totalmente Se non volete Perdere Parte delle vostre Capacità cognitive Ma è un mazzo Molto forte In questo momento Del meta Perché si pianta bene Sia contro prowess Che contro shadow La base del mazzo È un combo Che mi dispiace Un po' dirlo Perché chi mi conosce Lo sa Odio totalmente Questo mazzo Un combo Base silesnia Chiaramente Quindi basato Sulle creature Che punta Ad avere vite infinite E sfruttare Questa situazione Per fare Delle walking ballista Infinite Come funziona Elliot Suncrowded È uscito in Teros L'unico Deodio Di Quella espansione Di Teros Che costa Tremana È un incantesimo Indistruttibile Con devozione Che dice Quando guadagni Vite Metti un Più Uno Più Uno Su una creatura O un incantesimo Che controlli A due Una creatura Bersaglio Che non sia Elliot Guadagna Lifelink Quindi se ne abbiamo In campo Lui E una walking ballista Con due Segnarini Riusciamo a dargli Lifelink Faremo Sparo Uno Metto Un segnalino Sparo Uno Metto Un segnalino Walking ballista Non morirà mai E noi faremo Danni infiniti Con questa iterazione Come arriviamo A ottenere Questa combo O ci sono Altri modi Ah beh certo Chiaramente Poi c'è la parte Stupida Del mazzo Che è Aliens Eliod Con spike feeder Che Spike feeder È una creatura Che dice Entra con due Segnarini Togline uno Guadagni due Vite Ok Noi togliendone Un segnalino Facciamo due Mettiamo un segnalino E andiamo a vita infinite Questo di solito Basta per uccidere Metà dei mazzi Anzi Molti più di metà Dei mazzi Che ci sono Nel meta Ad esempio Burn Shadow Belcher Amulet 4C di Orion Non possono farci nienti Contro questa parte Del mazzo Ed è una parte Tutorabile Totalmente a caso Grazie a Collected Company Quindi vedete che Non mi sto descrivendo Proprio una figata Incredibile di mazzo Però C'è In tanti Lo giocano Abbiamo un sacco Di value card Che sono Aureoc Champion Che ci aiuta A scombare Prima Perché fa guadagnare Vita sull'Ethner Dele Battlefield Delle creature E in più Fastidiosissima Contro una buona Percentuale del meta Per le sue protezioni Con Clive Mentor Che anche lui Ci aiuta A scombare Prima Anzi Ci da un'altra Scombata Perché Quando metteremo I segnalini Ne metteremo Uno aggiuntivo E quindi Avremo la possibilità Di fare delle creature Infinito Infinito Vincendo anche Attraverso la combat Uno è la Damre Skull Che fa Da tutore Per tutto quello Che ci può andare A servire 4 Elliot 4 Captain Ranger O Vios Che sono Fastidiosissimi Una roba incredibile Tutore nel pezzo E fanno silence Cioè Proprio per tutti i mazzi Che gioco io Di solito Sono la morte Più totale Poi abbiamo Una monocopia Di Endurance 4 copie Di Collective Company Solitude Che si accompagna A Endurance Come pitch gratis Da fare Che risolve Delle situazioni E un paio Di walking ballista Grande Grande Classico La side Si compone In questa lista In particolare Di una carta Così Spicy Che è Mono Boil Abbiamo Mono Stomping Ground Per i Matchup Control Un paio Di copie Di frattori In gas Per Principalmente Hammer Time Che però Si ricicla bene Anche Contro Tutti Gli affinity Deck Goddock Tick Che ricordatevi Sempre Vi spegne Le company Quindi Fate attenzione Quando lo andate Do sai dare Ma Tron è molto forte Che è uno Dei nostri Matchup Peggiori Possibili Due copie Di santifire Invec Che si aggiungono Ad aureo Per fare Più weight Ancora Contro Rosso Nero Due copie Di kataki Sempre Per i Mazzi A base Artefatti Tre Tick 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 ma perché l'urrus è diventato veramente veramente ingestibile sotto tantissimi punti di vista quindi signora wizard se mi sta ascoltando lei lo so che mi sta ascoltando prenda provvedimenti per favore perché è qualcosa di drammatico continuare a giocare questo matchup è fastidiosissimo non si riesce a dargli mai uno stop perché continua a riprendersi quantomeno prima aveva solamente 4 dead shadow si c'era colla gun command ma non era così forte come l'urrus e si riusciva a gestire il tutto e adesso sta diventando un po' esagerato comunque la lista ormai la conosciamo in memoria e non andiamo neanche più a guardarla perché non ci sono più flex slot disponibili cioè la lista è finita quella è poi ci può essere il giocatore fancy che decide si tiene la sua touch incredibile o decide di metagamizzarla perché incontro tanto belcere quindi metto mind grind cose così va bene ma ormai la lista è quella ne parliamo da tutte le settimane da cui è uscita modern horizon 2 praticamente grazie a drc e ragaman e da lì in poi si è stoccata la lista e non si è mai più giocato niente di diverso come andiamo a batterla? il primo mazzo è un po' una novità nel meta ed è veramente difficile perdere contro shadow con questa lista è una base elementali ma bant principalmente bant quindi stiamo giocando a elementals andando a togliere i flame week arbinger quindi i nostri tutori e le fury e ci concentriamo sulla parte bianco blu del mazzo andiamo a mettere 4 copie di voice of resurgence e vedete che la curva fa da 0 a 2 saltando totalmente troppo a 1 togliendo anche l'utopia sprawl come diceva il buon Mattia Ferraris anche nel suo articolo sul giocatore medio di magic vi lascio il link in descrizione se vi interessa il diciamo l'archetipo perché è molto completo e spiega molto bene la situazione da un giocatore che lo sa giocare poi andiamo a giocare 4 copie di endurance subito per fare da 8 contro murktai de grixis main deck 3 copie di teferino il 3 copie non mi fa impazzire però ho provato il mazzo e va bene cioè non è una roba averne due o quattro non cambierebbe assolutamente nulla 4 copie di risen riff che è la nostra creatura più bella secondo me ci fa un value infinito ed è comunque simpatico guardano lì la nostra barriera corallina che si alza tutta incazzata grande risen riff che poi non è neanche così piccolo perché è un cambio vabbè comunque è un nostro nono che fa un value infinito 4 copie di omnat che è l'unico motivo per cui giochiamo in rosso ma credo che non giocarlo sarebbe tipo un delitto contro cioè un crimine umanitario una roba del genere quindi lo teniamo per forza di cose un turno con lui e ci sembra di giocare un altro gioco 4 copie di solitude fortissimo come removal ma vediamo che questa lista è molto incentrata sui removal bianchi 2 copie di titania protector of argot secondo me più che altro perché voleva provarle molto divertenti anche molto buone muoiono da bolt che non gira tantissimo ma è comunque una spela 1 che ci toglie un drop a 5 che potrebbe fare delle cose ma non arriva a farle perché viene ucciso quindi taglierei forse una copia devo capire se per il quarto teferino in modo da settarci su quel tipo di mazzo o qualcosa di diverso ma ne taglierei una copia poi arriviamo al rep a no beh giusto abbiamo 3 copie di calis of the void e avendo 0 drop a 1 ci sta perché è sciatta un tot di mazzi andando a metterlo subito a 1 o a 0 contro i cascade deck che soffrono anche teferino ma non soffrono titania quindi forse lo split una titania in meno e un teferino in più potrebbe esserci comodo poi abbiamo gli 8 removal bianchi che secondo me sono quello che ha fatto montare il mazzo insieme a Omnath ovvero 4 copie di prismatic ending e 4 copie di march of otherworldly light che avevamo vista tolta dalla lista di 4c che secondo me è un errore almeno in una o due copie ci andrebbe sempre questa carta è forte perché a costo 1 esilia tutte le urza cioè esilia urza saga e le terre d'artefatto che si possono andare a incrociare in questi giorni mi è capitato di vedere tanti affiniti su MTGO quindi prende anche Darksteel City e del pagando umana non è affatto male mi sembra un'ottima carta la lista è un po' rimane un po' indietro rispetto alle classiche liste di Elementals a 60 carte perché non giocando in rosso è un matchup leggermente più retroattivo ma sicuramente ha molte più risposte a Death, Shadow e Hammer Time che sono matchup che ho preso e finora credo di avere una win molto molto buona contro quei mazzi la side si va a comporre di 4 Foundation Breaker almeno per le liste che ho visto e non mi fa impazzire questa cosa io almeno una Force of Vigor la vorrei avere o una o due quindi farei uno split 2 Foundation 2 Force of Vigor con 3 copie di esplosivo di side sempre da solidare nei matchup che dicevamo prima quindi Shadow e Hammer Time quindi una lista molto metagamizzata per quello e poi 7 copie di counter abbiamo 4 Force of Negation per tutti i combo e 3 copie di Mystical Dispute da andare a mettere contro Control che comunque non se la passa benissimo perché già abbiamo 4 Cavern e 4 Voice of Resurgency che non è che siano proprio fantastiche da se giocassi UV non sarebbero proprio l'inizio di giornata perfetto secondo me chiaramente il Capitano eccolo qua c'è sempre Caira che ci guarda dall'alto e lì puntato il secondo modo che abbiamo per andare a battere Death Shadow è un grande classico che piace a tutti i grandi e i piccini ovvero Burn anche qui si rifà un po' il discorso di G.W.E.L.I.O.D. se volete evitare di perdere le vostre capacità di calcolo e di ragionamento non giocate questo mazzo ma se volete vincere delle partite Magic contro dei player che vi tenono in faccia dei 12-12 allora è un'ottima scelta lui va basso di vite noi gliele togliamo tutte la lista è un grande classico non ve la sto neanche a spiegare si può giocare o non si può giocare l'Urrus se non giocate l'Urrus io vi consiglierei di andare a mettere almeno una copia di Rest in Peace per prendere un po' di matchup fastidiosi tipo Murktide ma quelle poi sono diciamo piccolezze legate a come volete giocare il mazzo in questa lista ad esempio si giocano 3 Roiling Vortex 3 copie di Sanctifier in Vecchio io taglierei 1 e 1 per mettere un Rest in Peace ma quelli sono problemi di chi va a montare questa lista quindi questo era come affrontare secondo me questa settimana per questo fine settimana dagli FNML Challenge il Modern giocando o 4C di Orion o Prowess o Grixis The Shadow e tutti i mazzi che ci sono in mezzo per andare a batterli forse non vi ho parlato di Amulet che comunque è un ottimo mazzo per andare a battere 4C di Orion e c'è una serie di miei video che vi linko qua in descrizione così potete andare a vedere un pochino le scelte da fare o da non fare quando giocate queste liste comunque questi sono i mazzi che secondo me sono una buona scelta per questa settimana e vi ricordo sempre che il Modern è il formato del Pet Deck e quindi se voi dite no però io sono più bravo a giocare Arden & Scales giocate Arden & Scales perché sicuramente sentirvi confident è una cosa che aiuta diciamo con il risultato che potete ottirare fuori da quel mazzo quindi questo video in particolare sul Modern questa parte del video sul Modern è finito e ci vediamo con gli altri formati che sicuramente saranno più brevi a dopo torniamo col formato più nobile diciamo e il più difficile dicono anche tantissimi del Magic in generale sicuramente non è il più difficile da sopportare quello è il Modern con l'Urlus e Ragavan no l'Urlus Ragavan poverino non c'entra ma lasciamo perdere queste polemichette diciamo così che ci sono sempre e vanno fatte tutte alla Wizard e passiamo al Legacy quali sono i tre mazzi più giocati e più performanti in questa settimana? al terzo posto troviamo G-Sky Control un grande classico Miracle per chiunque lo voglia chiamare come i Boomer lo chiamano tipo me e si può trovare sia nella versione full control con la parte di combo diciamo ormai grande classico Narset più o Albreacher più Days and Wing o in alternativa della versione Stoneblade siccome fa ancora più risultato quello con la diciamo versione Control anche perché in Italia vi ricordo sempre che abbiamo uno dei giocatori più forti di questa particolare branca del formato di questo mazzo che è Angelo Cadei su MTGO quindi se vi interessassero le liste andate a cercare qualcosa su di lui diciamo abbiamo queste prendiamo in considerazione questa lista praticamente main deck stiamo giocando UV Control grazie giochiamo un buon mix di permission spell e Removal Removal in forma da spade a spighe e ending e ovviamente Terminus che è una vratta a costo 1 questa lista è un po' pesante sui Terminus però bene o male ci siamo abbastanza di solito se ne giocano dalle 1 alle 3 copie qua ne gioca 3 quindi il massimo possibile delle chiusure molto per il late game che sono o degli Snapcaster che menano o degli Hellbreacher fatti quando siamo sicuri che restino in campo o degli Shark Typhoon e poi tutta una serie di counters per le peschini quindi abbiamo 4 Force of Will 2 Force of Negation e 8 peschini a 1 divisi tra Ponder e Brainstorm doppia copia di Snapcaster Mage perché è una terra troppo forte non giochiamo a Mystic Sanctuary che si potrebbe anche giocare ma di solito di side abbiamo qualcosa che sia di 8 per le terre che sia Back to Basics o Blood Moon comunque entra però è sicuramente una cosa che si potrebbe andare a giocare con diciamo Terminus però come lì sono scelte di deck building e poi come dicevamo la combo quindi Days Undo in più o Albreacher oppure Narset Part of Vail che insieme a Teferi è l'unico Prenice Walker che giochiamo main deck che ci fa giocare ad Airstone ma questi sono altri particolari la side finalmente troviamo il rosso e abbiamo 4 copie di Red Elemental Blast Effect divisi tra Piro Blast e Reb per stare fuori surgical principalmente e credo perché anzi sono sicuro perché Piro Blast è potenzialmente è sicuramente meglio di Red Elemental Blast in combo con Monastery Mentor perché non ha bisogno di targettare una Splendon permanente blu ma lo targetta e se blu ha effetto quindi può essere utile tipo per avere un trigger di prowess in più se dobbiamo essere lethal possiamo tirarlo sul nostro Monastery Mentor ad esempio doppia copia di Flaster Storm molto forte sia contro Hunt sono tutti i Hunt e Doomsday quindi i combo ma e Reanimator ma anche contro Delver che uno fa un'ottima interazione contro tutti i loro chip counter o le loro chip interaction doppia copia di surgical extraction perché in Legacy è ancora una carta di magic quindi tenetela sempre in considerazione sia da giocare che da giocarci intorno monocopia di Containment Priest molto forte contro Show and Tell ma non se vi fanno Omniscience Reanimator Dredge insomma o le fiale di Death and Taxis o Elf che vi fa delle core cioè degli zenith comunque contro gli zenith tutto quello che entra dal campo molto forte molto molto forte in questo questo è il suo formato secondo me non il modern doppia copia di Back to Basic come dicevamo per andare a prendere tutte le terre quindi fare dell'8 su quelle e Meltdown per pulire i board contro i mazzi artefatto che stanno prendendo molto piede non sono ancora tra i mazzi più giocati ma diciamo che K-Cannonir ha dato un boost aggiuntivo a quei mazzi essendo un pezzo veramente forte per tutti gli stompi a base artefatto come possiamo andare a battere G-Sky Control se da solo uno si suicida con le terre perché c'è questa grande possibilità allora la prima lista che andiamo a vedere è Ogak perché Ogak perché i loro counter potranno andare tutti a quel gran paese siamo velocissimi siamo un mazzo che gioca dal cimitero quindi le interazioni che hanno con noi non sono estremamente rilevanti e gli diamo poco tempo per settarsi la combo andando ad aggiungere tutto questo a degli scartini e una combo che può uscire un po' da out of nowhere quindi abbiamo un piano aggro e combo che contro questo matchup e altri in realtà dei tier che si stanno giocando è molto molto forte ma se il mazzo è così bello perché non si gioca molto perché non è solido come tutti i tier che siamo andati a vedere fino ad ora chi ha giocato l'Ogak Summer sa di cosa stiamo parlando giochiamo praticamente la lista che si giocava in Modern Pre-Bun ovvero a parte le Cabal Therapy Gravecrawler Stitcher Supplier che fa da Black Lotus con il nostro Ogak 4 per di Fateless Looting qui gioca due copie di Undead Butler che dice che non l'ho mai letto scusate quando entra milliamo quando muore possiamo esigliarlo se lo facciamo facciamo tornare una carta dal cimitero in mano che non è affatto affatto male 4 copie di Bloodcast molto buone da saltare da sacrificare con Altare della Devenza se abbiamo una fetch per terra 4 copie di Saito Wayfinder questa è la lista con il rosso nella lista col blu si gioca leggermente diversa ma l'idea di base è quella 3 copie di Bridge of Below io ne giocherei sempre 4 in queste liste 4 copie di Vengevine che fanno la parte agro del mazzo 4 copie di Ogak che merano come dei fabbri sono degli 8-8 agosto 2 trample di secondo bello mi sembra una roba molto 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 forte la side si va a comporre di scartini se per andare a prendere gli altri combo o pezzi di hate tipo Rest in Peace 3 per di Assassin's Trophy per hate questo è solamente per appunto Rest in Peace o similari 4 copie di Line of the Boid per i Mirror con i Graveyard Deck che ci stanno sempre molto bene 4 copie di Forza la nostra side è mirata a evitare che ci uccidano il mazzo e poi dell'eyline per evitare che anche gli app giochino a Magic seconda lista comoda per andare a battere secondo me G-Sky Control è 4C di Orion versione Legacy 4C potremmo chiamarlo 4C Zenith lo chiamo qui perché perché Orion nella mia ottica ma credo in generale nella vita ha come obiettivo andare a sfasciare tutti quei Mid-Range Control che non giocano i Orion per fargli vedere la sua superiorità quindi abbiamo una buona base diciamo un mazzo che può permettersi di andare molto lungo nei turni con Uro con Leovold che fanno vantaggio Ice Fan Coat lo Sylvan Library e in più dal nulla possiamo permetterci di giocare delle carte come Grist che possiamo andare a prendere vi ricordo di Green Sun Zenith molto molto interessante e chiudere la partita in fretta con Primeval Titan che va a prendere non lo vedo ma io lo giocherei un field eccolo qua Field of the Dead è popolare il board quando Field of the Dead entra UV Control è abbastanza in difficoltà anche qui abbiamo un buon mix di removal che sono quattro spada spieghe quattro prismatic ending un tanto al chilo di peschini quattro Rainstone quattro per orden tre abundant crow che sono fortissimi con Iorian ma voi già lo sapete e poi dei removal così a buffo tipo per elfi plug engineer o goblin delle carte silver bullet come possono essere endurance life from the home che comunque è molto comoda da continuare a fare per riempire il cimitero per i nostri simpaticissimi uno che in legacy si possono ancora giocare e questo è quanto molto forte leovold da non sottovalutare se i vostri oppo fanno doomsday voi fate leovold secondo me non se la passano proprio felicissima comunque questo è la side si compone delle due grandi classiche copie di surgical extraction che vanno tantissimo in legacy sono un po' il catch all quindi lo mettiamo mi piace dire catch all prendiamo un attacco che c'è molto monocopia di canonista per i combo eteru ether swore ether swore canonist che dice che ogni giocatore che ha giocato uno spell in un artefatto non potrà giocare altre spell in questo turno quindi noi possiamo giocare lei e un'altra spell e poi basta e lo troppo uguale molto comoda contro test contro hunt contro doomsday tutte queste belle belle carte una copia di collector sempre contro combo o contro monoblustompy non è così efficace come contro diciamo il autospetal ma le mox opal comunque diventano dei bei soprammobili anche qui come in modern una copia di scavenging goose per rianimator o dove ci servisse guadagnare delle vite anche se abbiamo già una main deck tripla copia di medley mage perché da combo noi soffriamo proprio internamente abbiamo del malessere a vedere i giocatori di combo altre due copie di praga engineer perché anche quelle di elfi un pochino giocano combo quindi ci stanno sulle palle doppia copia di endurance per andare a pittare i cimiteri avversari o i nostri risposta alla surgical extraction che è la carta più giocata del formato praticamente monocopy di force of vigor forse ne giocherai due monoslot occupato da iorion chiaramente e seed of innocent questa non l'ho mai guardata quindi me la leggo qua insieme a voi tolta la bellissima art che abbiamo qui distruggi tutti gli artefatti non possono essere rigenerati il controllo di questi artefatti guadagna vite vabbè non è male perché a costo 3 sfasciamo potenzialmente il board a monoblue artefatti quindi è un po' una meta call perché k cannonier sta facendo veramente molta presenza in questo periodo deformato quindi ci sta giocarlo secondo mazzo tra i più giocati di questa settimana con degli ottimi risultati è l'ence per quanto non faccia piacere a qualcuno nel mondo perché l'ence non è un mazzo che è piacevole andare ad affrontare io ne sono molto contento perché è un mazzo che mi è sempre piaciuto si lo sapete non mi nascondo più io sono una brutta persona quindi se c'è un prison deck che gioca delle cose incanterabili per me è proprio fantastico base del mazzo per vincere la noia punto 1 punto 2 gli hanno aggiunto le urza saga perché la noia era troppo poco per vincere oltre chiaramente alla combo di dark depths e non la trovo più testi on stage che vabbè fa un 20-20 indistruttibile e poi ne parliamo di come riusciamo a risolverlo ci sono dei modi ma non è sempre così semplice giochiamo tutte le utility land possibili quindi blast zone bojookabog doppia boseju growth of the burn wheel no non è una utility land però mi piaceva perché la vedo ormai è sempre giocata solo qui monocopia di karakas doppia copia di mezovit tripla copia di rishadan port che era un po' che non si vedeva ma sono contento si rivede è una ottima cosa 4 copie di wasteland grande classico 4 copie di ruzasaga perché è la terra più forte che hanno stampato nell'ultimo anno quindi credo che sia una buona idea no è del 2021 vabbè comunque negli ultimi 12 mesi quindi sono contento che si giochi mi sembra abbastanza ovvio monocopia di javi maia cool della crescita ma soprattutto il motivo per cui dal vivo è poco giocato tabernacolo at the pen tabernacle at the pen of the veil ovvero una terra che costa come una macchina online costa veramente poco rispetto al real quindi è possibile giocarlo e per questo sta piazzando degli ottimi risultati che spell abbiamo 4 mox diamond da andare ad aggiungere alle terre soprattutto molto comode perché possiamo fare mox scarto una terra appoggio una terra verde faccio life from the home e vroom 2 mana turno 1 e ricominciamo a giocare la partita con tutto quello che voglio 4 copie di crop rotation che ci cercano una terra che vogliamo al costo di sacrificarne una ma tanto chi se ne frega perché giochiamo 4 copie di life from the home doppie copie di elvish reclaimer che fa da copie aggiuntive di crop rotation e in più a un certo punto comincia anche a minare se mai dovesse servirci 4 copie di exploration che è un incantesimo molto divertente che dice tappo un verde lo faccio faccio 2 terre per turno se ne faccio un altro ne faccio 3 se ne faccio un altro ne faccio 4 ti vada bene così a muletto lo giocherebbe in 9 copie se fosse possibile in modern una copia di poi diciamo il piccolo pacchettino urzasaga cioè una copia di expedition map per prenderci un po' quello che ci serve una copia di ago spinale per wasteland non è vero per quello che ci può dare fastidio una perite spell bomb e una shadow spear che è equippata ai token di urzasaga non fa niente schifo doppie copie di punishing fire che noi conosciamo come la noia ovvero la vecchia chiusura del mazzo ma comunque torna sempre utile contro i delver deck 4 copie di life front rock chiaramente doppia copia di endurance la side anche qui soffriamo combo la side come andiamo a gestirla qui giochiamo monocopia di surgical extraction non mi aspettavo niente di diverso tre copie di pyro blast effect che sono molto forti contro il blue altrimenti non abbiamo risposte perché veno of summer non lo giochiamo una copia di tram foundry che dice esigliala allora lei costa uno questo non lo conosco quindi è prendibile di saga esigliala target player contro le animator è molto comoda far rimischiare il cimitero anche contro il dredge molto carino 4 copie di sphere of resistance perché combo no due copie di choke perché blu no un'altra copia di endurance ci sta perché il cimitero anche qui direi di no insieme a tram foundry un target tracker per fare value e doppia copia di force of vigor per prendere blood moon back to basic alpine moon insomma tutte quelle robe che ci danno proprio proprio noia abbiamo detto che soffriamo combo e quindi i due modi migliori per andare a hittare questo mazzo quali sono giocare combo il primo è il più performante del formato che è doomsday l'abbiamo già visto milioni di volte quindi non sto a parlarvi della lista secondo me il combo più forte che c'è anche se non il più bello vi lascerò poi anche questa lista in descrizione in particolare in questa non si giocano bestie se non tassa soracle niente è molto forte state soltanto attenti se vi fanno level secondo mazzo che possiamo andare a giocare per sfasciarlo è la creatura di canister ovvero il mazzo con cui lui ha vinto si è qualificato alle mox chiaramente carister non è il più esperto di questo archetipo ma ci ha vinto un torneo e i suoi video credo che siano su youtube quindi potete andare a cercarli per avere un'idea di cosa può fare questo mazzo che gioca 14 terre come i migliori combo della storia 4 lotus petal 4 dark ritual e poi via di entombre anime i texum anime dead per rianimare qualsiasi cosa vogliamo proteggendoci la combo con 4 copie di totseez 2 copie di griff e 4 copie di unmask i target rianimabili in questa lista sono 4 grise grande classico e soprattutto 4 archon of cruelty che secondo me è proprio una cosa fighissima da rianimare e vabbè giustamente totseez che fa da enabler insieme ad entombre lista quadratissima non ci vedo niente di male coffin purge qua non abbiamo surgical extraction ma una risposta a surgical extraction perchè se tu mi target i grise il burn io faccio no ebbè farò rianimero al prossimo non è bello ma si può fare e in più prendiamo i target degli hop 4 copie di serenity perchè è un incantesimo che dice all'inizio della mia upkeep distruggi tutti gli artefatti degli incantesimi comodo decisamente comodo dopo i copie di fairy macab che mettiamo qua insieme 4 copie di canceller of the annex che possiamo vedere anche main deck e ci servono per fare da days contro i counter dei nostri oppo monocopia di orion e tripla copia di prismatic ending che è il removal che va a prendere tutto quello che ci serve da andare a togliere poi primo mazzo più giocato ormai fisso da tutto il mese di febbraio izet delver anche qua siamo leggermente stufi di vedere sempre questa perché la sua percentuale di gioco è altissima nonostante il ban di Raga non sia chiaramente condizionato questa lista ma non così tanto come ci si aspettava abbiamo una delver strategy classica che annichilisce tutte le altre perché ha disposizione diciamo che essendo la più solida ma di parecchi punti rispetto alle altre viene scelta rispetto a tutti gli altri splitti di colori rimanendo sulla base aware normale 18 terre due bolle di miscela che sono comode che le nostre dragon's ray channel e gli anolith e mono anolith per fare delirio e poi una fila infinita di drop a 1 22 tra peschini brainstorm e ponder e delver of secret dragon's ray channel e removal in forma di lightning bolt qui viene giocato un pyro blast main deck che può essere comodo come mirror tech e anolith poi abbiamo i counterspell che sono quattro copie di days di cui si è urlato al ban per dei mesi e secondo me è una cazzata incredibile perché days è proprio una carta che fa il formato e non ha un power level da ban assolutamente con dragavan era stressante ma non ha un power level da ban infatti è sparito credo hashtag ban days comunque abbiamo quattro copie di days mono copie di force of negation quattro copie di force of will quindi noi vogliamo giocare tutti i nostri counter potenzialmente a zero quattro copie di expressive iteration perché è una carta semplicemente rotta stupida e quindi va giocata in qualsiasi mazzo possa permettersi di giocarlo quattro copie di murk type legend perché a un certo punto delver quando non flippa noi facciamo un 8-8 così ve lo dico spoilerone prima o poi lo uccidiamo di side abbiamo monocopie di mystic century per i match up diciamo un po' più grind dove vogliamo recuperare delle spell doppie copie di surgical extraction perché no ce le avevo le ho messe anche qui poi abbiamo triple copie di pyroblast monocopie di end festivities che è un upgrade di blazing volley fa un danno a tutte le creature e i planeswalker e anche ogni op passa anche sopra le line of santi prendi un mazzo tutti i tuoi elfi un danno a te per far schifo poi monocopie di gravedigger's cage perché a reanimator non è proprio un bel match up e poi vedremo anche un altro mazzo che non siamo felici di incontrare seconda copia di force of negation come aggiuntiva contro combo cart of calling come chiesura alternativa molto 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 bella ci fa diventare il monarca se siamo i monarchi un player 1010 carte quindi in qualche turno vinciamo una partita monocopie del breacher per fare value energy flux interessantissima tutti gli artefatti vediamo KK non è sta proprio entrando nella testa di tutti i player con energy flux c'è questo incantesimo che dice all'up keep tutti devi pagare due per ogni artefatto altrimenti lo sacrifici monocopie di submerge contro i 20-20 indistruttibili perché non è che li tagliamo più facili facendogli dei danni e monocopie di rough tumble come bratta versus elfi abbiamo anche una monocopia di brazen borrower per togliere il 20-20 main deck che non ci sta per niente male come battiamo questo mazzo eccolo qua il primo che vi vado a portare come la prima che vi vado a portare come scelta è elfi possibilmente non giocando questi natural order che sono proprio brutti ma l'idea di base è quella tante piccole creature su cui è difficile andare a fare i counter anche perché se appoggio all'osaurus shepherd i counter te li tieni in mano e stai anche un po' zitto che hanno sia la possibilità di stramenarvi appunto con un shepherd che fa diventare tutti dei dinosauri 5-5 oppure di uccidervi di combo con natural order glimpse of nature green sun zenith portando in campo un crater of beam in tutto questo possiamo permetterci di giocare anche monocopia di grist di hunger tide che è una delle mie carte preferite e once upon a time doppia copia mazzo stra forte che io non so giocare ma giuro un giorno orrei a imparare e che di side si permette di giocare un po' di tutto ovvero 8 per la mano degli avversari con tot sees 8 per l'8 che ci faccio quindi contro 8 perché abbiamo una copia di assassin's trophy una copia di abrupt decay e basta come risposte tipo a torpor orb non so mi viene in mente così oppure oppure non lo so in questo momento non mi viene in mente nient'altro sempre contro contro oltre a tot sees abbiamo carpet of flowers che mi sembra molto buono monocopia di collector off contro gli artefatti non so come sia il match up contro mono blue artefatti non ho mai provato il mazzo vorrei tanto farlo doppia copia di endulance per tutto quello che passa dal cimitero insieme a 4 per di line of the void e perché a noi proprio ci piace avere scritto nel nome 5c progenitus non relic proprio progenitus protezione da tutto se dovesse mai essere rimesso in un cimitero per puro caso per sbaglio anche che lo avvicini troppo lì si rischia quindi noi facciamo progenitus con natural order il nostro op deve avere veramente veramente delle mani di fuoco per risolverlo secondo mazzo per andare a battere izeth delver è dredge e capiamo il motivo per cui c'è quella gabbia e il becchino c'è realmente tante carte che non ci stanno voilà mettiamole qua a caso ok giochiamo 13 terre 4 led 1 lotus petal per il mazzo più odioso di tutti ci permette diciamo del legacy secondo me in generale ci permette delle partenze a strappo in maniera incredibile la meccanica trege è nota a tutti i giocatori di legacy e comunque praticamente dice no io non pesco mai dalla cima del mio mazzo pesco dal mio cimitero ok e ti giro senza pagarle per costo di mana delle creature in faccia se non ti dovesse andare bene ne parliamo g2 perché g1 non lo perdo praticamente mai a meno di non piantarmi in maniera abbastanza comica secondo me in qualche maniera che a me è sconosciuta è proprio un mazzo da g1 questo velocissimo i giocatori non se lo aspettano vince contro secondo me una buona parte dei tier che abbiamo visto prima perché anche lenz ci può morire a meno di non vedere bojuca bog molto velocemente age sky control soprattutto e che inside anche qui come nella versione di ugak gioca 8 per l'8 che subisce quindi vabbè a parte l'auto spetta l'aggiuntivo che non mi è molto chiaro per cui si è stato messo doppie copie di cero vapor tripla di natur's claim per rest in peace effect o lay line of the void insieme a ray of revelation e poi una value card in forma di ox of a gonas anche qui con lotus petal non mi è chiarissimo monocopy di memory's journey per che ah beh può essere molto forte contro tassa oracle perché gli facciamo risciaffolare tre carte tassa oracle fa trigger per due di mana e non vince la partita tripla copia di line of sanctity monocopia di line of the void no doppia copia di line of the void e monocopia di icoride aggiuntiva che non capisco in realtà ma dovrei studiarmi un po' il mazzo quindi questo era per il legacy se mai dovreste affrontare queste challenge i tre mazzi da battere o da giocare se volete giocare i tier sono geskai contro lens e delver delver tra l'altro cioè i due geskai e delver non stanno benissimo contro lens motivo per il quale è nato un po' è rinato un po' così l'archetipo e questi sono tutte le altre liste che secondo me invece possono andare a battere questa questi tier forti divertenti anche da giocare a parte delver che non mi sta divertendo particolarmente gli altri ve li consiglio tutti noi ci vediamo tra poco per il prossimo formato che credo sarà pioneer e pioneer sia quindi come dicevamo partiamo subitissimo senza perderci troppo in chiacchiere perché qui il video sta diventando lungo da quelli che sono i tre mazzi più giocati siccome i prossimi due formati che sono pioneer in corso e pauper li gioco meno ho deciso di non spingermi oltre il mazzo che secondo me potrebbe andare a battere il tier di riferimento non vorrei dire delle cose che non sono proprio corrette in realtà dovrei informarmi un po' di più prima di dire vi do la mia opinione il terzo mazzo più giocato con più risultati di questa settimana è stato Raktos Blood mazzo partito nato grazie all'arrivo di Kamigawa Neon Dynasty perché ci ha portato Onicool Tanvil e Experimental Synthetizer tra le carte disponibili nel formato che fanno una value engine incredibile c'è un mio mazzo anche di questa versione per historic c'è un mio video per questo mazzo nella versione historic che vi linko qui sotto in descrizione fa delle robe pazzesche se giocate anche quel formato andate a vederlo perché per me è veramente veramente stra divertente il mazzo si basa su tantissime su tantissimo value tra sia appunto come dicevo Experimental Synthetizer Onicool Tanvil ma anche la presenza di Deadly Dispute e Blood Fountain che ci permette di andare a riprendere Voldaren Epicure e Blood Tide Harvester oltre a fare chiaramente dei Blood Token che ci permettono di fare card selection quello che abbiamo in mano e abbiamo dei pezzi da sacrificare comodi anche in Terrarion esempio qualche removal volta che surge e fatal push qualche carta value che fa anche removal colga in command e la nostra combo card che è The Mythook Massacre perché sacrificandoci un artefatto con Onicool Tanvil faremo un drain di uno per il suo effetto e in più il drain di Mythook Massacre che non è affatto male le terre che ci servono sono tutte quelle che ci danno Raktos nel formato più due copie di Den of the Bugbeard e due copie di Hive of the High Tyrant per andare ad avere una chiusura alternativa non è un mazzo veloce ma chi chiude le partite in fretta nel senso che non chiuderemo in pochi turni ma ci setteremo il board in maniera tale da portare la partita dove vogliamo noi e si chiuderà presumibilmente se abbiamo preso una linea vincente come pensiamo diciamo che uccide le speranze degli avversari è un lurus deck quindi di side uno slot se ne va per il gattino onirico e poi abbiamo triplo scarto che non giochiamo main deck per giocare il blood fountain e un removal in più non lo so perché il formato è molto combo centrico quindi credo di volere tot sees in generale main deck copia aggiuntiva di Mythook Massacre per i mazzi aggressivi insieme a Feed the Swarm per uccidere sia le creature sia ad esempio Geskay Ascendancy o Rest in Peace che ci dà fastidio ma fino a una certa se posso permettermi doppia copia di Legion Sand contro gli aggro tripla copia di Goblenk per Fenici e Control doppia copia di Necromenzia sempre per Fenici anche per Lotus Field ci va benissimo per i combo in generale copia aggiuntiva di Colagans Command mazzo quadratissimo Rakdos secco non ha pretese di essere il mazzo più forte del formato ma si è piazzato comunque tra i primi tre più giocati e con più risultati quindi tanto tanta attenzione un mazzo che potrebbe dargli molto fastidio è la versione Jand di Sacrifice per quale motivo? allora sicuramente Jand Sacrifice è un mazzo molto solido quindi già di per sé contro i mazzi appena costruiti ha una buona base di appoggio nel senso che basta cambiare qualche carta e riusciamo andare a intercettare la linea di gioco ma soprattutto abbiamo a disposizione anche noi Onicult Anvil che comunque aiuta ma Mayhem Devil che ad ogni sacrificio sparerà un danno quindi il suo mazzo aiuterà la nostra strategia aiuterà la nostra strategia oltre a lui anche Karn Karn Great Creator che fa Stony Silence monodirezionale quindi tutta la parte che dicevamo prima di Onicult Anvil che fa delle cose viene shattata dal nostro place walkerone a 4 mana doppia copia di Mituk Massacre anche per noi e poi vabbè Kill Dead Goose Trail of Crum per fare value in generale che si ricicla bene contro tantissimi altri matchup poi in particolare andiamo ad aggiungere per questo doppia copia di Natural State e Pitting Needle da andare a prendere di Karn che sono sempre combo di Treasure Vault Decide da prendere con Karn se divesse servirci il Landrop 4 copie di Toad Seas per diciamo i combo e i control monocopy di Turmod Crypt sempre da prendere di Karn così come Onicult Anvil Sky Sovereign e Bola Sita delle Dumping Sphere Abrupt Decay per tutti i permanenti fastidiosi che ci possono essere in giro per il formato mazzo molto solido che a me non piace giocare ma vi consiglio se le strategie Midrange fanno per voi perché ha dei diciamo diversi piani di applicazione sia si può mettere sia nella posizione di giocare aggro pingando tanti danni sia nella posizione di giocare control con Mayhem Devil che riesce a pingare tutte le piccole creaturine che ci sono in giro anche qui Mythic Massacre fa da copia 5 e 6 più scarse del diavolo Rakdos il secondo mazzo che ho visto più gioco in questa settimana è un grande classico ormai ci siamo tanto tanto affezionati è il mazzo che gioco io con delle nuove tech che non ho ancora provato Hidden Strings quali sono le nuove tech che siamo andati a mettere chiaramente doppia copia di Boseiju portandolo a essere da uno dei mazzi meno costosi del formato a uno dei più no dei più costosi no ma facendolo salire particolarmente doppia copia di Otawara per quello che riguarda l'EIT che ci può risolvere questa carta 4 copie del Border Glazer sono un grande classico e aiutano sempre nel formato 2 copie di Favowish Splittato Gorn e Mastermind Acquisition che ci fa da copia aggiuntiva cioè che ci aiuta ad andare a cercarci magari le nostre Boseiju nel mazzo che possono essere essenziali adesso insieme a Sylvan Skrying tripla copia di Balagued Recovery e questo è un grande classico altra aggiunta Lier che ci permette di rifare le nostre a parte che non si possono counterare le spell quindi contro Coltroll è molto bello che art brutta vabbè fa niente ma tutti gli Instant Sorcery nel nostro cimitero hanno flashback uguale al loro costo di mana Passing Flames del formato mi sembra molto 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 interessante Dark Petitions è andata ad aggiungere perché io la giocavo già ma non capivo perché non si giocasse Beyond The Beyond non la conosco no questa la conosco allora scarta la tua mano cerca ah ok ok beh beh molto forte se giochiamo se abbiamo in campo Lear perché ci permette di scartare la mano ma giocarla comunque e cercare anche in più tre carte da metterci in mano un tutorone gigantesco se Lear risolve bello interessante da provare la side ha visto qualche aggiungione le carte classiche che sono Weissner Wilt Layline of Sanctity che si possono giocare o meno Tod Distortion in tre copie mi sembrano tantine però la nostra chiusura di Approach of the Second Sun e la chiusura alternativa di Hugin abbiamo visto come è aggiunta al mazzo in questa shell Path of Peril che è una carta che dice Cleave 4 costa 3 ne 1 e 2 neri Cleave 4 con costo Orzhov ok distruggi tutte le creature se la tiriamo a costo 6 altrimenti a costo 13 distruggi tutte le creature con costo 2 o inferiore che mi sembra un'ottima cosa già di per sé perché Orzhov di Humans piuttosto che Vampiri la soffrono e proprio Vampiri è secondo me il peggior matchup di questo mazzo eccolo qua perché perché unisce una buona pressione grazie ai Sorin ai Champion of the Task a Edgar Markov Edgar che qua si chiama Edgar Charmed Groom eccolo qua con un'art secondo me inguardabile ha un diciamo una disruption abbastanza interessante giocando 4 tozisme in deck se piazzate al momento giusto possono spaccarci la mano inoltre di side andiamo a giocare Gravedigger's Cage che stoppa l'ear 4 copie di Defending Silence proprio per andare a prendere tutti i combo 4 copie di Goblank e basta diciamo per questo matchup lasciando gli ultimi slot per i mirror o i mazzi tipo mono verde con delle creature molto grosse o tipo rogue se qualcuno volesse ancora giocarlo c'è Crippling Fier nel formato quindi pensateci io ci ho provato non è un'idea della madonna e doppie copie di Blood Baron Vizcopa che io l'ho giocavo in Modern nei tempi in Junk devo dire che mi fa sempre molto piacere andare a vedere questo vampirone il mazzo è molto molto solido io l'ho giocato e anche abbastanza easy secondo me le linee di gioco sono veramente poche main deck praticamente siamo mono black possiamo anche pensare di non giocare Edgar e giocare qualcosa di diverso tipo copia aggiuntiva di Soaring Mirthless e un removal in più e saremmo comunque tranquilli però questo è un bel lord quindi ci può stare lord a 4 insomma la parte artefatto cosa fa però all'inizio dell'alteo hack crea un 1-1 vampiro chiaramente e metti un segnalino su questa cosa sul coffin sulla bara di Edgar Markov ok ok ah quando muore diventa la bara ok perfetto se ci sono tre o più segnalini ah lo ritrassevo il mio non lo togli mai vabbè comodo non mi fa impazzire devo dire però un drop a 4 ci può anche stare primo mazzo più giocato di questa settimana è chiaramente come al solito UR Fenici che dopo una settimana senza essere presente nemmeno nelle classifiche si è ripreso la vetta della classifica se ho detto classifica 6-7 volte non è importante perché è troppo forte molto semplicemente si permette di giocare carte come Treasure Cruise o Temporal Tripass che hanno quella meccanica leggermente idiota che è Delve mettendosi nel cimitero delle carte che rientreranno noi facciamo un game plan che non c'entra niente con l'essere aggressivo e a un certo punto picchieremo con delle 3-2 è proprio la base di questo mazzo quindi non vi sto dicendo assolutamente niente di nuovo giochiamo tutte le spell più forti UR che ci sono quindi Pieces of the Puzzle Expressive Iteration Galvanic Iteration e Flame Blast Bolt qui siamo 8 peschini riusciamo a vedere una porzione di mazzo esagerata e a settarci quasi delle one turn win oltre al fatto che abbiamo in campo anche delle Thing on the Ice che se non vengono risolte secondo me se ti danni 7 danni te li tirano fortissimi in faccia la side è secondo me abbastanza genericamente cambiabile abbiamo una win condition alternativa che è Jays Wilder of Mysteries perché vedendoci così tante carte possiamo arrivare a non averne più nel mazzo che poi aiuta a mettere al cesso delle fenici tripla copia di Narset contro contro monocopia di Anger of the Gods contro Agro quattro copie di Mystical Dispute per contro Lomir doppia copia di Hintergast per gli RG deck in generale sono molto molto buoni monocopia di Alpine Moon contro Lotus Field che non è di base un brutto matchup doppia copia di Stern di Smissile che fa tornare in mano un incantesimo o una creatura al possessore della stessa e Invasive Surgery che è counter una spell sorcery se abbiamo delirio le togliamo tutte dal mazzo facciamo Surgical anche qui come in Legacy qui non abbiamo Surgical vogliamo farla in ogni caso così il mazzo è super 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 forte e molto bello da giocare secondo me noioso il fatto che ci saranno tanti Mirror quindi se non vi piace come me fare Mirror no saltatelo ma per batterlo secondo me potete giocare UV and Soul Artifact perché UV and Soul Artifact perché facciamo abbastanza pezzi e con and Soul Artifact e Michiko Rain of Truth riusciamo ad andare ad avere anche dei pezzi molto grossi che pressino forte cioè facciano un'ottima race contro Guerre Fenici unica sfiga chiaramente avere contro una Thing in the Ice che potrebbe flippare ma per questo giochiamo quattro Portable che se la portano via così sempre allegra risalta quella secondo me il matchup è veramente veramente bello la side infatti main deck secondo me la risolviamo solo con quello e poi abbiamo dei pezzi giganteschi oltre a Ingenio Smith e Stone Coil Serpent la side si compone di quattro copie di Defending Silence perché comunque i combo del formato sono molto presenti e non sono fantastici per noi tripla copia di Eight per il cimitero divisa in Grave Tiger's Cage e Lantern of the Lost in X copie come preferite andare a giocarle Qatar Commando per il Mirror principalmente vengono in mente mazzi con un artefatto ingantesimo solamente quelli beh Orzo of Auras ma ok Glass Casket in tripla copia come aggiunta per andare a prendere un tot di creature fastidiose doppie copie di Ashpringer per i mazzi che si basano tipo su Sacrifice essendo un Urru Stack l'ultimo slot ce lo porta via il gattino onirico e il Pioneer è finito ci vediamo per il Pauper ultimo formato che prendiamo in considerazione oggi come sempre quello che un pochino mi hanno giocato su MTGO che sto anche io giocando un filo o meno ma dovrei riprendere è Pauper perché dovrei riprenderlo perché il terzo mazzo con più risultati all'attivo questa settimana è Storm quindi essendo io un amante del diciamo di questo tipo di mazzi di build magari magari ci farò qualche partita come si compone lo Storm da Pauper post ban di Chatterstorm grazie a Dio perché ricordo sempre che quel periodo è stato orribile eccolo qua allora abbiamo 14 terre come al solito giochiamo le terre che ci danno doppio mana sacrificandole delle terre artefatto perché abbiamo giochiamo Deathly Dispute come value card quindi possono essere utili perché ci danno ci ridanno il mana che usiamo praticamente per fare la spell quindi abbiamo 4 Sandstone e 4 Geothermal oltre a 4 Pitbog e 4 terre artefatto 4 Lotus Petal che sono la carta più costosa credo del Pauper su MTGO poi dei Riti abbiamo i Riti migliori del mondo 4 Dark Ritual 4 Cabal Ritual e i Rite of Flames insieme a carte arrivate direttamente da Neon Dynasty che sono l'Experimental Synthetizer e basta no solamente quelle però sono molto molto comode 6 pallette da sacrificare e pescare ricordatevi che Chromatic Sphere bisogna pescare anche se sacrificate l'esempio di Deadly Dispute un pelo Chromatic Sphere no perché pescherete solamente quando verrà sacrificata per la sua abilità di filtraggio del colore quindi attenzione a questa cosa poi sempre nelle Draw Spell troviamo 4 perdite di Deadly Dispute impossibile pensare di non giocare la 4 perdite di Night Whisper e mettiamoci anche 4 perdite di Malangrofosi che sono a cavallo tra i ridi e i peschini carta del mazzo Galvanic Relay che nel formato attualmente c'è chi la ama e chi la odia perché ritiene che sia troppo forte per questo formato per il Pauper appunto anche se è arrivata una tartaruga che fa Stifle certo costa scartandola a 3 però si può valutare chiusura del mazzo 4 perdite Kessig Flame Breather che è una creatura a costo 2 un 1-3 che dice quando noi castiamo la spell in un creatura noi facciamo un danno a tutti gli opponent se mai esistesse le line nel formato lui se ne fregherebbe con un'arroganza incredibile la side si compone di Dures per andare a prendere i counter o nel mirror le chiusure avversarie 4 per di Pyro Blast contro Del Verde se ne incontriamo una per di Feldon's Cave che ci permette di rimischiare il nostro cimitero e ripartire con la combo una copia di Nid's Spellbone per fermare la combo avversaria doppia copia di Flaming Pain se volessero prevenire il danno per questo turno noi diciamo no 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 4 copie di Weather the Storm perché Weather the Storm perché Burn è un nostro brutto match è un nostro brutto match up quindi Weather the Storm mi sembra proprio una cosa comoda come facciamo andare a battere questo mazzo se non vogliamo giocare un tier perché Burn in questo periodo è tornato a essere tier secondo me una buona risposta può essere Mono Blue Fatine non altre liste Mono Blue perché perché abbiamo una quantità di interazioni molto più alte a livello di counterspell molto più alte rispetto alla media dei mazzi Blue Based cioè Fatine Based no dobbiamo andare a prendere sempre per forza Castig Flame Breeder che è la loro chiusura del mazzo senza quella non possono ucciderci e per andare a prenderla abbiamo esattamente allora supponendo di avere in campo una Fatina 4 Spells Tratterprite poi un count 4 copie di counterspell abbiamo Snap per rimbalzarlo in mano se dovesse servirci e 3 copie di Force Spike per prenderlo se dovessero farlo col mana giusto o comunque per rallentargli molto la scombata monocopia di dispera aggiuntiva che non fa mai male nel frattempo riusciamo a minare facendo vantaggio con Ninja of the Deep Powers poi vabbè abbiamo quel cesto di Delver ma ce lo teniamo qua perché comunque ci fa molta simpatia averlo qui in giro e un tot di peschini per scolpirci la mano tra questo e le fatine che ci fanno pescare o fare scrai la side si compone di counter contro affinity perché o affinity o aure 4 copie di Blue Elemental Blast per andare a prendere le Pyro Blast che ci inseriranno doppia copia di Curfew per aure principalmente tripla copia di Disper perché non fa mai male doppia Stonebound Geist e monocopia di Spire Golem io qui in mezzo ci vedrei bene delle copie di Relic of Progenitus da avere sempre a disposizione contro i mazzi che passano dal cimitero contro anche Storm con Felden Kane non è assolutamente malissimo o per spegnere Ride of Flame secondo mazzo più giocato Affinity io pensavo fosse il primo e invece no questa settimana è un altro il mazzo alla top della lista ormai siamo arrivati a giocare liste Rakdos di Affinity eliminando Toadcast perché Kamigawa Neon Danist ci hanno regalato una seconda quasi Deadly Dispute ovvero Reconas Bear Gain che ci fa pescare due sacrificando una creatura e guadagniamo anche le vite pari alla pari alla ma al Mana Value al Mana Value e io che pensavo alla Totnes la Fatnes vabbè buono quindi ci dà anche un sacco di tempo contro botti molto 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 bello perché giochiamo Rakdos perché tanto abbiamo Experimental Synthetizer che va d'accordissimo con Makeshift Munition e possiamo permetterci di giocare Blood Fontaine che ormai è il grande classico abbiamo tolto i Serpenti che un pochino mi dispiace ma andiamo un po' più solidi sul piano combo e abbiamo aggiunto Gourma Gangler come pezzi aggiuntivi il piano combo si compone combo una buona interazione non combo Makeshift Munitions perché non riusciamo a chiudere nel turno che la giochiamo presumibilmente se il nostro oppo fosse molto alto evite perché ogni attivazione ci costa un Mana quindi magari non riusciamo a chiudere quel turno ma grazie a Kark Clan Shaman e 4 copie di Discepolo della Volta invece possiamo fare delle cose mettendo in pila tutte le volte l'abilità di Shaman per sparare i danni in faccia con Discepolo della Volta insomma abbiamo doppio piano agro e combo e intanto peschiamo che non mi sembra mai mai male avendo tutto il blu abbiamo messo molte più copie di Red Elemental Blast per proteggerci dai counterspell copia aggiuntiva di Kark Clan Shaman perché comunque si ricicla bene anche nei matchup tipo contro Elfi che è un mazzo che questa settimana non vediamo ma mi fa molto strano Gorilla Shaman per i Mirror tripla copie di Dures per i combo e per se dovessimo incontrare ad esempio Fattini a me non dispiacerebbe giocarla monocopia di Castdown che va a prendere qualsiasi cosa nel formato sempre per Mirror doppie copie di Shenanigans doppie copie di Fire Cannonade per Fatine e Elfi e Saffogate Influence per esattamente gli stessi matchup solo che in più si cicla quindi capisco lo split anche se mi piace di più Fire Cannonade perché fa due danni prende anche i Ninja come vogliamo affrontare questo mazzo storicamente Affinity non sta bene 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 da Bogles che splittiamo un attimo se ho troppo a uno perché se no qua non ci stiamo ecco qua Bogles è quel mazzo che il giocatore nuovo prende in mano per la prima volta e ci fa 17-0 a un torneo classificato è un gran competitivo poi la settimana dopo tutti si preparano alla cosa e farà 0-17 allora Xproof deck quindi abbiamo poche creature tutte con Xproof Slippery Boggle Glade Cover Scout e dov'è l'altra ah no qua ah no siamo usciti di creature abbiamo 8 creature con Xproof e 4 Spirited Companion che sono gli Elbish Vision di incantesimo del nostro mazzo quindi ci fanno pescare delle carte tutto il resto si basa sull'essere un Glass Cannon non aggressivo quindi monocreatura e un sacco di diciamo di di auree addosso i Terral Armor Ancestral Mask Armadillo Clock Rancor ne abbiamo vogliamo nominarlo lo vediamo il più forte possibile e via ha ha dei blocchi il nostro avversario noi non abbiamo Trampol non c'è problema Run Through ah no scusatemi non è vero abbiamo Trampol ma non siamo letali io attacco faccio Run Through faccio combattere il mio pezzo ti faccio anche tutto il resto di danni che passerebbero in faccia è un po' la combo del nostro mazzo se combo si vuole definire un mazzo che anche qui come modern vi fa perdere giocando Celestia perdete concezione delle vostre conoscenze in qualsiasi campo la side si compone di Lifelink che è un'armatura che dà Lifelink molto lineare tripla copia di Gatshot per Fatine Elfistompi che non mi sembrano affatto male come carte a costo zero monocopia di Relicoff Progenitus che ci sta doppia copia di Crimson Tackolite che è praticamente una creatura con Xproof contro Monored tripla copia quadrupla copia di Standard Bearer nei Mirror perché la carta è Spell Skate del formato e dice fin tanto che un avversario sta scegliendo un target per parte della risoluzione della spell che controllano o di un'abilità che necessita un target dovranno scegliere Standard Bearer quindi tutte le tue auree se non dicono chi controlli finiscono a me grazie è stato un piacere doppia copia di Fledding Pain per evitare di far prevenire il danno perché noi siamo brutte persone e dobbiamo vincere doppia copia di Weathered Storm perché sì contro Storm mi sembra forte qual è il primo mazzo più giocato di questa settimana? Burn da mesi non vedevo Burn in classifica è rientrato col botto come mai? perché è forte contro i mazzi non interattivi quindi Storm ad esempio è un ottimo matchup Burn ci si mena fortissimo e non si dice neanche per favore abbiamo 17 terre tra cui 16 montagne e una Forgotten Cave potete giocare un paio di Forgotten Cave però le dande tappate a me hanno sempre fatto molta paura in questo mazzo 20 drop a 1 abbiamo ne ho tolto 1 va bene fa niente 4 Chain Lightning, 4 Lava Spike, 4 Lightning Bolt 3 Needle Drop e poi arrivano delle creature che sono 4 Voldare in Epicure sempre rimanendo in tema botti abbiamo 4 Curse of the Pierced Heart che è un incantesimo aura curse del ciclo di Innistrad targettiamo il nostro avversario con questo e lui ogni upkeep prenderà un danno dall'incantesimo 4 copie di Serin Blaze perché ci stanno benissimo contro tutti i mazzi a base a creature 4 copie di Rift Bolt, 4 copie di Skuller the Critic e chiaramente 4 copie di Fire Blast le creature che giochiamo sono 4 Voldare in Epicure e 4 Thermo Alchemist i Keldon Marauder ci hanno salutato due anni fa peccato mi stavano molto simpatici side, elettriceri per i mazzi con X1 doppia copia di Ghito Lava Runner se beccassimo un mazzo non interattivo tipo Storm secondo me avere delle creature aggiuntive non è male tanto quanto Marty Roveshius che non è vero entra in un altro spot perché fa danni alle creature senza volare fa un po' il nostro Kirk Clark Shaman 3 copie di Red Elemental Blast contro il contro Firebrand Hatcher anche qui nelle creature con dei mazzi con poca interazione è molto molto comodo doppia copia di Flaring Pain perché no è la surgical extraction del formato e 4 copie di Smash to Smittenness perché Affinity è comunque un mazzo e noi non vogliamo perderci ma se volessimo vincere contro Botti invece cosa facciamo giochiamo UV Familiar grandissimo mazzo che io consiglio a tutti di giocare perché è stra divertente da giocarci contro no mi rendo conto di questa cosa però vabbè è l'unico combo del formato e la combo consiste nel millare totalmente il nostro avversario grazie all'interazione tra Archeomancer Ghostly Freak Flicker Deep Analysis si può giocare Sage Road Nizen se fate come me volete giocare una chiusura un po' più veloce all'interno del mazzo perché è forte contro Burn questo mazzo che secondo me non è complicatissimo ma va imparato a giocare per le 3 copie di Godfaraos Faithful che sono degli 0-4 che innanzitutto sono difficili da abbattere con Bolt e ogni volta che tiriamo uno spell blu guadagniamo una vita siccome noi giochiamo solo spell blu tranne 6-8 ecco qua no 3-5-4-9 guadagniamo una cifra di vite infinita quindi per Burn si ci becca non è proprio giornata la side si compone di un'altra Godfaraos Gift sempre per questo matchup 3 copie di Hydro Blast che entrano lì ma possono entrare anche contro ad esempio Storm che non è un bel matchup per questo mazzo per i riti Last Breath per Fatina Revoke Resistance contro Affinity tanto quanto i 4 Dust to Dust monocopy di counters per le doppie copie di Negate per tutti i matchup combo che poi è solo uno ma siccome si gioca tanto 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 diventano tanti matchup io ho finito il fiato è stato divertente e noi ci vediamo prossimamente con altri video magari su questa linea vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale devo dirlo a inizio perché sennò chi cazzo se lo guarda sta roba fa niente e niente fatemi sapere come vanno i vostri weekend di avventure magiche ciao a tutti grazie a tutti